7 pinchi ratti, 7 trantini, quant'è di qui? 7 poli, ma vaffanculo è 75 si guarda, ma sei stato tu? a che fa? ma mandalo più lento, che? e scendo, e non i pedali così vai 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 che sia anche per cincilla va bene va bene va bene va bene o no ora io dai questo cincilla scendo porca maia mamma mia queste persone sollecitiamo il sottopalla al massimo guarda come si sollecita il sottopalla è vero o no o no è vero o no guarda come va ora come gli va al sottopalla mamma mia che spettacolo due benissimo vai questo per le poccine fondamentali è fondamentale per la poccina la retta mamma mia guardatelo col carrino a risceglie pure è andata bene eh zero figa oggi figa zero così non hai guardato niente oggi che guarda non c'è la figa zero è andata male ma qui perché ancora è presto perché nel sonno che si fa la gennazina anche oggi allenamento fatto eh tanto grosso quanto sono grosso oggi l'ho fatto guarda quanto sono grosso guarda quanto sono grosso guarda guarda vai vai scampanella scampanella va quanto sono grosso guarda guarda non so grosso guarda sei andate in palestra insieme siamo una forza eh è o no oh ma guardati qui mi tocca aprire lo sportello pian pian perché c'ho la forza nel scoccio un bacetto un altro che bei momenti tutto sto burro si è andato a un palestra perché fa? guarda ti trema anche il braccio incredibile mi sono perso la nevicata a settembre guardate come ha nevicato guarda che sta cercando le palle di neve più grosse guardate come fa guardate come smistica tutto il parmigiano è tutto nevicato guarda che lavoro guarda che palla di neve vai guarda che palla di neve via fermate Dio al campo guarda le palle di neve trova Bebe numero uno saluta Bebe e Anna Maria ciao Bebe invita la mangiare un po' ciao via il centro da a mangiare i tagliaterri a mangiare il troppo a mangiare il troppo tutto parta di neve più che occidentale